Oltre 16.000 immobili cablati entro il 2020 con un investimento superiore a 5 milioni di euro. E' il progetto presentato oggi a Palazzo San Giorgio dal sindaco Roberto Gravina e dal responsabile per l'Abruzzo e il Molise di Open Fibra, Marco Pasini, la società che costruirà un'infrastruttura per intero in fibra ottica in modalità Fiber to the Home, la fibra cioè che arriva direttamente nelle case di Campobasso. Il progetto consentirà di collegare in banda ultralarga, oltre 16.000 case con una rete lunga 40 chilometri. L'investimento è a totale carico della società ed è in programma in 271 città italiane, tra le quali Campobasso. E' previsto anche il cablaggio di scuole e uffici comunali per migliorare le relazioni con i cittadini e aumentare la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio in modo da favorire il recupero del sistema paese e in particolare l'evoluzione verso l'industria 4.0. Per realizzare il 73% dell'opera, hanno spiegato il sindaco e il manager, non occorrerà scavare ma verranno utilizzati i cavidotti già esistenti. Campobasso, ha commentato Gravina, si proietta nel presente e assume una dimensione futura, fatto di tecnologie e comunicazioni superveloci in modo da superare il tradizionale divario infrastrutturale che contraddistingue negativamente il territorio regionale e potrà favorire nuovi investimenti nella area urbana. La società di telecomunicazioni è già al lavoro nel resto della regione nell'ambito del piano banda ultralarga per portare la fibra ottica in tutti i 136 comuni del territorio molisano.